5. Freeman F10. Il Freeman F10 è un hoverboard dalle qualità encomiabili. Come nel caso del creatore, è il primo hoverboard con licenza UL 2272. Ben costruito, con prodotti di qualità eccezionale e un design piuttosto sobrio, questo sopra le righe con un motore da 250 W può arrivare a una velocità di 10 kmh, ancora di più ma questo si basa sul tipo di superficie e soprattutto sul peso che dovrà sicuramente sostenere, 100 kg max, oltre ad assicurare una gamma di circa 20 km a un unico costo. La batteria e Samsung fornisce una migliore resilienza e integrità, si carica interamente per quanto riguarda tre ore. Dotato di fari a LED per illuminare la carreggiata e rendere visibile da solo, il Freeman F10, proprio al centro delle pediere, ha un segnale di carica della batteria. Al numero 4, abbiamo Hobo Hard Sport. Materiali di alta qualità, lavorazione superba e anche uno stile aggressivo, moderno e accattivante per un hoverboard che può essere specificato come una vera bestia, efficiente nell'affrontare qualsiasi tipo di superficie e inclinazione. Viene preso in considerazione l'overboard europeo più sicuro, accreditato UL 2272 superando test di sicurezza come l'esame degli incidenti, l'esame del livello di temperatura, l'esame di caduta, l'esame degli urti e così via. . Entrambi i motori elettrici da 400 WPV consentono a Hobo Hard di raggiungere la velocità di 14 km h. Puoi sostenere un peso di 120 kg. Le ruote, veri pneumatici in gomma solida da 8,5 possono assumere qualsiasi tipo di superficie senza alcun problema. . Al terzo posto, abbiamo la Bebq Overboard 6.5. Per mamme e papà che intendono offrire ai propri giovani l'esperienza di guidare un hoverboard senza spendere una quantità esagerata, consigliamo questo hoverboard Bebq 6.5 che sembra avere molto successo sia in termini di sicurezza che in termini di prestazioni. L'overboard è di alta qualità, con un telaio in alluminio e plastica e anche uno stile moderno, sottile e accattivante. . Luci a ledo che consentono visibilità anche quando la luce del sole si è effettivamente stabilita. . Entrambi i motori elettrici da 350 W consentono di raggiungere una velocità di 12 km h, la capacità delle tonnellate è di 100 kg, le ruote da 6,5 sono abbastanza robuste, la batteria garantisce un'autonomia di 15-20 km ed è anche completamente carica in un paio d'ore. . Al numero 2, abbiamo il Jekme Overboard. Lo scooter per mobilità elettrica ha dotato di struttura in lega di alluminio aeronautico, alimentato da un motore elettrico da due 350 W con 8,5 pollici senza pneumatico in gomma solida gonfiabile su tutti i terreni. Con questo hoverboard fuoristrada, puoi usarlo sul cortile e sulla costa. . Altoparlante per canzoni del marchio integrato Overboard, che si connette con il tuo dispositivo intelligente per ascoltare le tue canzoni preferite. Fantastica illuminazione a led tremolante sulla parte anteriore del pedale che ti rende super cool durante la guida. 8,5 pollici con forte potenza il motore elettrico si adatta a superficie complessa, cemento, erba, sabbia. Anche il sistema di assorbimento è eccellente, la sensazione di guida è incredibilmente liscia e continua. . Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il NILOX DOC Self Balance. Uno degli hoverboard di maggior successo è sicuramente il NILOX DOC, un prodotto certificato il 2272, un attributo essenziale quando stiamo acquisendo un hoverboard. Di fida degli oggetti che non li hanno. L'overboard è molto resistente e di ottima fattura e ha un layout moderno e anche accattivante. Tenere a mente la comodità di prendersi cura e l'eccezionale sistema di autobilanciamento, basterà davvero poco metodo e i ragazzi si prepareranno a utilizzarlo senza problemi. Non c'è assenza di quel tocco in più fornito dalla presenza di LED che al calar della notte rende il NILOX DOC molto più elegante e anche, come direbbero sicuramente i più giovani, Baudle. Grazie. Grazie. Grazie.